Noi amiamo regalarti il piacere di tornare a casa. I nostri prodotti si identificano con i sogni e le passioni di chi li sceglie. Ceramiche Benuzzi, quando pavimenti e rivestimenti sono un esercizio di stile. Perché la casa è il racconto della nostra vita. Vesti la tua casa con le grandi firme italiane. Siamo in via del Maccabreccia 25B a Lippo di Calderara. Telefono 051 72 67 22 www.ceramichebenuzzi.it 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 Nuova puntata Nuova puntata di Io Abito. Oggi siamo in un luogo pubblico nel centro del quadrilatero e come sempre iniziamo con il nostro personaggio del Come eravamo, un personaggio che nella nostra città è stato un ex di tantissime cose, tutte molto importanti. E' stato persino l'ex dello striscione, questo l'ha fatto Walter. Siamo con Walter Vitali. Ciao Walter. Ciao Delisa e grazie a te per lo striscione, questo l'ha fatto Walter, perché è una tua invenzione e di questo ti voglio dare pubblicamente atto. L'ho fatto molte volte ma lo faccio volentieri anche questa volta. Sì, perché è una delle tante cose che ho fatto nella mia vita, è stata questa l'ha fatta Walter. Fu efficace e contrassegnò bene insomma quel periodo, all'inizio degli anni 2000, ecco. Quindi per me è stata una cosa divertente, importante, ma credo anche per te sia stata un'esperienza interessante. Sì, per me fu un periodo bellissimo, però adesso noi siamo qua perché tu oggi sei il nostro personaggio del Come eravamo. Hai già partecipato alla nostra trasmissione radiofonica nella quale abbiamo parlato di altre cose. Oggi con te voglio iniziare a parlare di un periodo bolognese di cui ancora non abbiamo parlato, perché più o meno con i nostri ospici ci siamo fermati alla fine degli anni 70, abbiamo, ecco. Quindi con te parliamo fino agli anni 70 e agli anni 80. Inoltriamo persino negli anni 80, va bene, d'accordo, in fondo sono solo poco più di 30 anni, 34 anni. Allora, anni 80 per Walter Vitali cosa hai fatto allora e cosa hanno significato per te? Ma vedo che il nuovo assessore alla cultura parla di Bologna Rock, ecco, credo che faccia fatica a batterci, perché Mauro Filippori e Dio nel 1980 organizziamo il concerto dei Clash, che resta nella memoria, diciamo, del mondo, del popolo rock come un evento incredibile, i Clash a Bologna. Allora, parliamo di come nasce questo concerto dei Clash. Scusa Walter, tu all'epoca che ruolo ricoprivi? Nessuno, questo è il bello della faccenda. Perché io, diciamo, come dice Silvio Berlusconi, perché su questo devo dire ha ragione, faccio parte di quella schiera di funzionari del PC, PDS e DS. Vabbè, poi PD, ma a quel punto non ero più funzionario, ero parlamentare. E in quell'epoca, come si dice, avevo appena lasciato Roma, dove ero andato a lavorare, a imparare sostanzialmente il mestiere, la FG nazionale, quella diretta da Massimo D'Alema, e ero tornato a Bologna. Praticamente, insomma, lavori chiavo, ero, sì, diciamo, formalmente la dipendenza della mitica federazione del PC bolognese di Via Barberia, ma non avevo ancora un ruolo ben definito. Renato Zangheri si interessò un po' a me, perché era interessato all'esperienza che avevo fatto con i giovani. E allora erano tre anni dal 77 e a Bologna c'era effettivamente un grande problema, che era una frattura molto profonda tra i giovani di allora e, diciamo, la città intesa nelle sue espressioni, sia politiche, quindi la città del PC, della sinistra, ma anche istituzionale, il comune. Il 77 fu un momento molto doloroso e, insomma, ci fu una reazione diversa da parte dei vertici, delle istituzioni, del partito, allora il segretario della federazione era Renzi in beni, però devo dire che Renato fu quello, fra tutti, che cercò di più di capire, dopo, naturalmente, diciamo, l'uccisione di Lorusso, dopo i fatti, diciamo, del marzo 77, dopo le violenze, insomma, cercò comunque di gettare un ponte, di prendere un ponte, individuò in me, diciamo, una persona che poteva svolgere questa funzione. Perché, scusa, Walter, tu allora eri giovane. Insomma, diciamo sì, avevo esattamente, sono dei 52, quindi avevo 28 anni. Quindi tornai a Bologna, Mauro Felicori, con cui avevamo condiviso le esperienze della sezione universitaria del comunista, e allora lavorava come consulente al piano giovani, che era, diciamo, un'esperienza avviata con l'allora assessore, Aureliano Alberici. E Zangheri, sostanzialmente, mi diede l'incarico di organizzare delle manifestazioni musicali. Perché, per il comune, anche se, diciamo, il mio ruolo era un po' un incognito, perché, diciamo, formalmente non avevo ruoli particolari, diciamo che era una specie di consigliere del sindaco, ecco, ma mai formalizzato. E quindi organizzavamo questa serie di manifestazioni musicali, perché si ritenne che quello era il modo migliore per cercare di intrattenere un rapporto con i giovani, perché, dal punto di vista della politica, era difficile costruire questo legato. E, diciamo, la rassegna si chiamava Ritmicità. Chiamavamo Michel Pergolani, Pergolani, ecco, a, diciamo, condurla, perché allora era un volto televisivo dell'altra domenica. Esatto, ricordo che era uno dei personaggi di punta del programma di Arbore. Dell'altra domenica, no? E, in questo modo, in questa serie, diciamo, di serate che facciamo, di rock, c'era Uderso Rubini, fra l'altro, tra quelli che, diciamo, tecnicamente, no, organizzava il tutto, si esibirono, ad esempio, gli Schiantos e altri gruppi della New Age, del rock bolognese, che era tutta legata al 77, che era nata nel 77. Poi, ad un certo punto, con Mauro, ci ponemmo il problema di come si fa a concludere questa rassegna. Allora, c'era un nostro amico che aveva lavorato con noi a Roma, alla Città Futura, il giornale della FGC, di cui Mauro era il vice direttore, ha stato il vice direttore, che si chiama Massimo Buda, un riminese, e lui faceva il critico rock della Città Futura. Allora, gli chiedemmo, ma secondo te, qual è il gruppo che a Bologna, se noi lo chiamiamo e se magari viene, potrebbe fare più rumore, no, proprio nel rapporto fra la Città e i giovani del 77? Io gli ho detto, sicuramente i Clash, perché sono un gruppo, diciamo così, di rock dell'opposizione, che in un qualche modo è stato individuato dal movimento, a livello anche internazionale, come un punto di riferimento, la loro presenza a Bologna, basta anche solo la presenza farebbe notizia. Gli telefonammo e decidono di venire, per cui ci fu questo grande concerto rock in Piazza Maggiore, che fu la conclusione di quelle giornate. Quindi, allora, inizio degli anni Ottanta... Quante cose che abbiamo fatto? Non c'è solo l'altra informazione, ci sono anche i Clash. Walter, in incognito, insieme a Mauro Felicori, che ancora ricopre un ruolo nell'ambito della cultura della nostra città molto importante, organizza questo grande concerto su mandato del sindaco. L'unica cosa di quell'anno, a parte che mi sposai, e quindi diciamo l'Ottanta è un anno un po' particolare nella mia vita, però devo dire che fu un anno anche ricco di altre cose, a parte la strage del 2 agosto, eustica, diciamo, tra le cose drammatiche e negative. Un'altra cosa molto importante, che ricordo con piacere, erano queste serate che organizzammo con il contributo di Roberto Roversi in Piazza Santo Stefano. Il titolo era Cento parole per Bologna, ed erano una serie di serate nelle quali lui naturalmente non voleva apparire, non c'era, però c'era anche del prete fra quelli che li organizzavano. Allora Domenico era un cronista del manifesto, quindi insomma insieme, con Mauro, Domenico e Roversi, la Palma Verde, programmammo queste serate, che entravano anch'esse un po' in questa logica, cioè l'idea in sostanza di dare la parola a, diciamo così, persone, espressioni di una Bologna che non si ritrovava con la Bologna ufficiale del Comune. Allora ad esempio c'era Radio Città, quella di Stefano Benni, che aveva una posizione di forte, diciamo, contrapposizione all'amministrazione comunale, anche quella svolse un ruolo, insomma, e parlammo di varie cose, dall'urbanistica agli studenti, e furono una serie di serate che secondo me hanno lasciato il segno in quelli naturalmente che vi hanno partecipato, perché nello stile di Roversi la cosa importante era che tutto questo avvenisse senza un eccessivo clamore, infatti non ebbero un grande clamore, però si svolse. Allora Walter, per chiudere un po' questa carrellata sugli anni Ottanta, poi tu diventi assessore. Però già due anni dopo, perché la vicenda con Renato... Sempre negli anni Ottanta. Sì, no, ho capito. Però furono due anni importanti, perché l'altro momento molto importante fu il primo anniversario della strage del 2 agosto. Renato si fidava molto di me, evidentemente di me, no, insomma, anche di riferimento. Gli avevi portato i clash? Certo, e comunque tutta, diciamo così, la rassegna fu un successo straordinario, se ne parlò. E per, diciamo, commemorare il primo anniversario della strage, devo dire che lui ebbe un grande coraggio, cioè sostanzialmente quello di fare quello che io gli propose, che era un'idea un po' ardita. Tanto è vero che ebbe grandi polemiche, ci accusarono di volere ballare sui morti. Cioè la nostra idea era molto diversa. La nostra idea era quella di fare, e fu realizzata, di svolgere nel primo anniversario della strage, in 1981, un grande incontro di giovani a livello europeo che discutessero intorno, naturalmente, diciamo, al fatto, ma soprattutto ai problemi del momento, per ricordare una grande tragedia, un infarto di morte, con un evento di vita. Ecco, questa era un po' l'idea. E, tra l'altro, viene ancora ricordato il Carmelo Bene, dagli asinelli, no? Che di fronte alla folla, che riempiva tutta Via Rissoli, recita Dante. Fu una delle cose che, tra l'altro, diciamo, fu lo stesso Renato a portare, perché aveva rapporti anche personali con Bene. Ma poi ci furono tanti altri eventi, ci furono incontri in l'Arena del Sole di giovani occupanti di case, al Giardino Margherita di movimenti pacifisti, incontri, mi ricordo che venne anche il vice sindaco di Hamburgo sulle esperienze delle altre città, fu una cosa veramente bella e importante. Però, Bologna, che è sempre stata, devo dire, una città abbastanza provinciale, questo lo devo riconfermare, anche allora un po' lo fu, perché le polemiche, ovviamente, soprattutto l'Esto del Carlino, Destra, eccetera, furono di quel tipo che ti dicevo prima. Però rimase, in tutti gli anni successivi, il fatto di avere il concerto la sera in Piazza Maggiore, infatti si finì con la nonna di Beethoven, con l'orchestra del Teatro Comunale, e di collegare comunque alla manifestazione dell'agosto mattina eventi di carattere musicale e culturale. Questo rimase, e quello comunque credo che sia stato nel corso del tempo una conquista importante. Walter, noi abbiamo finito questa nostra chiacchierata. Adesso, siccome siamo in questo nuovo posto sul quale... Sì, no, io sull'estetico essendo il mio mestiere avrei molto da dire, ma non lo dico, perché sono diventata buona. Neanch'io dico niente. Bene, noi non si dice niente, però mi offri un caffè. E volentieri. Bene, allora mi bevo un caffè con Walter Vitali e poi vado in studio per fare l'altra parte della trasmissione. Noi amiamo regalarti il piacere di tornare a casa. I nostri prodotti si identificano con i sogni e le passioni di chi li sceglie. Ceramiche Benuzzi quando pavimenti e rivestimenti sono un esercizio di stile. Perché la casa è il racconto della nostra vita. Vesti la tua casa con le grandi firme italiane. Siamo in via del Maccabreccia 25B a Lippo di Calderara. Telefono 051 72 67 22 www.ceramichebenuzzi.it www.ceramichebenuzzi.it Ho salutato Walter Vitali sono tornata in studio dove mi sta aspettando Silvia perché oggi vi parleremo di case ad altissima certificazione energetica e cioè delle case con protocollo Casa Clima. Silvia, qui abbiamo una tieni pure il microfono abbiamo una lottizzazione che sta per realizzare l'impresa Lodi e Ghedini esatto, sì. E spiegaci un po' dove si trova e lo sviluppo di questo progetto. Allora, ci troviamo vicino a Ponte Ronca zona San Martino la lottizzazione è identificata in queste due immagini si trova vicino al Golf Club vicino a Ponte Ronca. La lottizzazione che vediamo in questo caso fotografata e che viene ripresa da questa planimetria individua un'area dove verranno realizzate nove unità residenziali unifamiliari in particolare abbiamo preso come esempio un edificio che abbiamo sviluppato in quanto un committente ci ha fatto una richiesta questo edificio come tutti gli altri verranno realizzati come dicevi a prima Delisa ad alta efficienza energetica struttura linea quindi a secco e si sviluppa questo progetto con un piano terra un piano primo e alle mie spalle vedremo i prospetti e una rappresentazione assonometrica in particolare una zona cucina soggiorno due camere da letto e un servizio una scala a giorno che porta in un secondo piano cioè un secondo livello il piano primo in cui abbiamo una zona sottotetto una camera da letto e un altro servizio l'ampio giardino che circonda in questo caso questo lotto viene studiato per essere completamente accessibile a sia un accesso pedonale che un accesso carrabile dove avremo un'autorimessa coperta e un van e un parcheggio scoperto alle mie spalle come puoi vedere Delisa e come possono vedere tutti c'è lo sviluppo dei quattro prospetti e di una sezione tipo di fianco una rappresentazione assonometrica io direi che questa è in generale la diciamo l'edificazione tipo all'interno di questi lotti che più o meno abbiamo cercato di sviluppare a livello di superfici allo stesso modo ok allora abbiamo parlato di protocollo casa clima è un protocollo molto particolare le case devono essere fatte in un modo molto particolare casa in legno quindi noi adesso abbiamo un pezzo assembliamo abbiamo chiamato un operaio che ci farà vedere come vengono costruite queste cose passo il microfono esatto allora chiamo l'operaio che è in giacca e non cravate buonasera a tutti avete riconosciuto ovviamente Mirko Lodi titolare dell'impresa Lodi e Ghedini che realizza questo complesso adesso Mirko ci spieghi come come è fatta questa casa perché hai portato questo elemento praticamente fai l'operaio ok bene no prima di tutto ve lo spiegare un attimo di cosa stiamo parlando cioè casa clima è un protocollo che è stato realizzato dalla provincia di Bolzano proprio per darsi delle regole molto più restrittive rispetto a quella che è la certificazione energetica per esempio della regione Emilia Romagna e per avere questi edifici che possono garantire un risparmio che rispetto te lo tengo io che lo tengo meglio un risparmio che rispetto agli edifici tradizionali era impensabile fino a pochi anni fa dunque il protocollo casa clima parte da una concessione di base adesso vi interrogo un attimo e vi dico qual è l'energia più pulita secondo te il vento l'energia più pulita è l'energia che non utilizziamo e questo è il concetto di base no è questo cioè allora si parte dal presupposto che l'edificio deve essere assolutamente assolutamente coibentato in maniera tale non devono esistere delle dispersioni quindi per capire noi abbiamo parlato in altre puntate anche alla radio di protocollo in classe A dell'Emilia Romagna questo è un protocollo completamente diverso questo è un protocollo diverso perché parte dal presupposto che l'involucro è l'elemento fondamentale su cui intervenire per risparmiare energia per involucro intendiamo ovviamente i muri il coperto i pavimenti i muri le finestre i solai e tutto quello che comunque comporta la parte esterna dell'edificio di conseguenza mi spiego meglio lo tengo io non lo mollo nessuno il microfono vai spiega no allora sostanzialmente rispetto a la certificazione tradizionale quella dell'Emilia Romagna dove per raggiungere determinati livelli di efficienza ci avvaliamo anche dell'impiantistica di un certo tipo quindi a basso consumo energetico e comunque parliamo di pompe di calore parliamo di pannelli solari parliamo di fotovoltaico stessa cosa si fa anche per casa clima ma in prima in prima battuta si pensa all'involucro non ci devono essere dispersioni di nessun tipo quindi questo è l'involucro questo è un potrebbe essere è un tipo di involucro è chiaro che questo è un edificio a secco quindi un edificio in legno ma possiamo realizzare un edificio casa clima anche con una struttura tradizionale con una pilastri e travi in cemento armato con dei tamponamenti in laterizio e poi avvolgerlo con del cappotto tradizionale considerando però che bisogna avere un'attenzione particolare alla posa che ci garantisce appunto questa mancanza di dispersione ok allora possiamo fare un esempio concreto per i nostri telespettatori perché ovviamente parlare troppo in gergo tecnico diventiamo un po' incomprensibili allora qui sostanzialmente cerco di schematizzare diciamo rappresentiamo questo elemento è la struttura la struttura che può essere una parete continua in legno massello oppure potrebbe essere una struttura puntifone quindi un pilastro con delle travi di collegamento a questa struttura noi magari la giro così così si vede questa struttura noi internamente affianchiamo una doppia parete in cartongesso all'interno di questa zona andiamo a posizionare tutta l'impiantistica questa è la parte interna della costruzione quindi dell'alloggio mentre all'esterno per garantire una mi devo spostare che devi spostare per garantire l'efficienza e quindi la coibentazione andiamo a posizionare una un coibente contro questa parete e mi manca un pezzo e a finire abbiamo un altro coibente che come vedete è intonacato e quindi è una rasatura è un cappotto rasato e come finitura quindi come aspetto finale non abbiamo altro che una casa intonacata come ci aspettiamo come siamo abituati a vedere quindi noi vediamo una casa che è come quelle fatte in muratura però è fatta con questa sequenza di materiali il totale lo spessore di un muro questo varia in funzione dell'efficienza che si vuole avere diciamo che siamo intorno dai 30 ai 50 cm ok quindi allora anziché muratura struttura portante in legno pareti interne in cartongesso con la coibentazione con la coibentazione interna che è una lanna di roccia che va messa una volta completata l'impiantistica si mette la coibentazione a copertura dell'impianto e poi si fissano queste doppie lastre di cartongesso interna dove tranquillamente si possono applicare le scatole dell'impianto elettrico si possono appendere pensili si può appendere qualsiasi cosa come l'intonaca tradizionale poi abbiamo coibentazione e l'ultimo strato di coibentazione con l'intonaca con l'intonaco con l'intonaco particolare su più strati comunque è un intonaco quindi ce ne faremo una ragione Mirko questo lo rifacciamo non problema ok allora a questo punto la casa una casa fatta così con ovviamente le finestre adatte quanto ci fa risparmiare di energia dunque allora considera è questo il punto che interessa i nostri spettatori considera che una casa che siamo abituati a vivere quindi costruita negli anni 60 70 in termini cioè i parametri sono questi che sono anche quelli che troviamo nella certificazione la famosa tabellina scusate che l'avevo qua credo sia qua Mirko una tabellina ecco questa che è quella che siamo abituati a vedere anche quando acquistiamo un elettrodomestico quindi con le varie classi di efficienza noi siamo intorno alla classe G che consuma cioè nella nostra casa anni 60 anni 70 classe G F intorno ai 170 180 kilowatt al metro quadro anno nelle case ad altissima efficienza energetica di questo tipo arriviamo a consumare intorno ai 10 kilowatt quindi il rapporto è 180 10 all'anno all'anno al metro quadro considerate che si può arrivare addirittura alla casa passiva cioè che è quella che produce più energia di quella che consuma è chiaro che servono un determinato accorgimento servono degli spazi per per l'impiantistica quindi per i pannelli fotovoltaici per produrre questa energia che magari ci aiuta a gestire tutto il consumo della casa quindi allora la Lodi Ghedini sta partendo con questa lottizzazione abbiamo detto che sono nove sono nove unità immobiliari fatte in protocollo casa clima sì quindi in cartongesso legno così come tu hai spiegato che superficie hanno le abitazioni sono circa no complessivamente sono circa 150 metri di superficie abitabile più il giardino il garage il posto auto è chiaro che siamo in grado di personalizzarle cioè adesso noi abbiamo previsto su questo progetto che aveva fatto vedere prima Silvia un'ipotesi che sulla base delle esigenze di una persona di questo probabile acquirente però possiamo o abbinare due lotti possiamo fare delle bifamiliari possiamo realizzare comunque un edificio che confezioniamo su misura dunque questo è a quello che so io uno dei primi esperimenti in casa clima ho detto dei primi perché in realtà negli ultimi anni c'è stato qualche sporadico esperimento di casa costruita in questo modo a Bologna provincia direi che la cosa è molto interessante noi ve ne stiamo parlando perché riteniamo che questo sia il futuro per lo meno del nuovo perché sull'usato noi possiamo ristrutturare possiamo raggiungere al massimo la classe B su un immobile perché la classe A sull'usato non si raggiunge mai almeno non mi risulta cioè ci sono adesso delle tecnologie che ci possono aiutare comunque guarda la telecamera a migliorare che sei più carino a migliorare notevolmente anche la classe energetica degli edifici esistenti ora è chiaro che per fare la valutazione della classe complessiva che riusciamo a ottenere bisogna ragionare su tutto l'involgo no ma sto parlando ad esempio di casa unifamiliare come sta capitando a me in questo periodo costruita addirittura negli anni 30 che a fronte di una certa tipologia di lavori coibentazioni e quant'altro potrebbe raggiungere la classe B la classe A è praticamente impossibile diciamo che è più è molto più difficile quindi lì bisogna impegnarsi però sul nuovo sulle nuove costruzioni come giustamente sta facendo l'impresa Lodi e Ghedini andare sulla realizzazione di un prodotto di questo tipo addirittura a casa clima che è il massimo di efficienza energetica che noi possiamo raggiungere credo che sia la dimostrazione e non lo dico perché tu sei qui davanti a me ti prego di guardare in camera ma credo che sia una dimostrazione della lungimiranza che voi avete cioè di guardare avanti perché una casa così che abbiamo detto consuma anziché 170 10 kg vatt al metro quadro l'anno vuol dire che avremo il costo della gestione della casa praticamente a costo quasi nullo ok allora adesso noi l'operaio Mirko Lodi ha spiegato a noi come è costruita nella struttura questa casa noi adesso la vogliamo rivestire quindi saluto Mirko spero di vederti l'ultima puntata perché te sei stato in vacanza un bel po' nego neghi sei stato a lavorare ci vediamo l'ultima puntata la dodicesima che sarà una puntata speciale che vi prepareremo perché poi torneremo in autunno purtroppo per voi e ora ti saluto chiamo Paola Trebi della ditta Benuzzi che andiamo a rivestire internamente la casa ok arrivederci con Paola abbiamo pensato di proporre per questa casa oltre a un legno di cui poi lei ci parlerà anche del cotto perché non abbiamo ancora parlato di pavimenti non abbiamo ancora parlato di pavimenti non abbiamo ancora parlato abbiamo pensato di mettere il cotto in questa abitazione che mi sembra molto adatto in particolare abbiamo usufruito del cotto Sannini che è un cotto tipico imprunettino di una di veramente il simbolo di quello che è l'Italia per la produzione del cotto è l'imprunetta famosa in tutto il mondo che si trova in Toscana andiamo avanti lo sanno tutti non si sa mai qualcuno può non saperlo abbiamo pensato di usare il cotto Litos che è questo con questa leggera finitura superficiale naturale questa leggera striatura che viene ottenuta lasciando salire i sali durante la cottura e quindi proprio unicamente naturale Paola uno dei problemi del cotto che il privato può pensare è se si rovina come lo dobbiamo trattare il cotto adesso sono cambiate le ultime tipologie per quanto riguarda il trattamento del cotto c'è stato un notevole cambiamento nel senso che il cotto viene trattato in azienda vengono fatti dei trattamenti a livello industriale proprio nell'azienda e il cotto viene trattato esce già così come prodotto quindi non abbiamo più bisogno di intervenire con quei trattamenti lunghi come tempo nel senso che il cantiere si allungava e poi anche di dubbio risultato perché a me è capitato anni fa che mi ha fatto il trattamento poi si manchiava il cotto quindi adesso il cotto non va più trattato Paola uno se vuole se lo può anche trattare però la spesa è superiore di un 30% se io monto questo cotto questo è già trattato noi qui abbiamo già trattato posso metterlo in cucina cade l'olio non fa niente è già trattato c'è un trattamento a livello industriale in azienda che lo lascia sempre naturale il più possibile e non c'è più bisogno di fare niente dopo fai un semplice lavaggio come fai sulle ceramiche ok invece quindi e anche quello fatto a mano qui abbiamo portato due cotti in questo caso due tipologie di cotto questo è fatto a macchina rettificato questo è fatto a macchina rettificato e ha questa superficie che chiamano litos che significa terra giusto e quindi che ha questa tipologia questo è un cotto fatto a mano proprio ancora con i sistemi della materia all'interno dei forni che poi viene essiccato poi va in cottura per quattro giorni questo questo e questo questo è il cotto fatto a mano e questo viene a mano tagliato a macchina per ridurre il costo su tutti questi può essere sempre fatto lo stesso trattamento faccio un'idea di costi questo rettificato rettificato litos naturale che ha questa struttura che piace molto perché vedi che ha questa sentina ma è bello anche è bello anche il colore il colore è rosa e questo si aggira sui 25 e 26 euro scontati al pubblico al metro quadro al metro quadro parliamo sempre di prezzi esclusivi e invece per quanto riguarda il cotto fatto a mano che ha sempre avuto dei prezzi molto alti cioè si aggirano sugli 80-90 euro al metro quadro abbiamo ridotto hanno ridotto l'azienda tutte le aziende dell'imprunetta il taglio a macchina per ridurre la cifra quindi da una tipologia di 80 euro al metro quadro possiamo arrivare a un circa 50 euro al metro quadro benissimo sempre scontato di vesclusa esatto ok allora per quello che riguarda il legno hai portato una tipologia di legno prefinito esatto prefinito in planche italiano italiano allora planche vuol dire dimensione lunghezza di 185 per un 18 di larghezza con uno spessore di 15 quanto costa un legno questo è un legno che è scontato costa poco più di 40 euro più una ventina di euro per la posa esatto poi lo monti galleggiante su un materassino giusto sai benissimo tu meglio di me quindi possiamo mettere un materassino anche con una barriera a vapore per fare un isolamento più funzionale rispetto a un ombrale materassino da cifra bassa qui ci sono questo è il rovere classico questo è il rovere classico verniciato questo è un rovere spazzolato neutro questo è un tinteggiato sbiancato abbiamo portato questo perché mi sembra che sia una bella tipologia anche un tinto a cioccolette quindi questo è tutto rovere in varie colorazioni dal naturale allo scuro anche al grigio al marrone sì questo è molto bello questo qui anche questo grigio scuro quindi con hai detto 40 euro sì poco più di 40 euro al metro quadro listoni da 18 per 185 per 185 di lunghezza possiamo fare un bel pavimento galleggiante prefinito e oltre che in legno naturale ad esempio a me piace questo che è un color nocciola possiamo anche averlo in varie colorazioni esatto allora per queste case in protocollo casa clima che sono in collina quindi l'utilizzo del legno piuttosto che del cotto ci sembra molto opportuno direi che questa potrebbe essere la soluzione ora Paola io ti saluto ci vediamo alla prossima puntata perché io vorrei tornare a parlare di domotica è tornato con noi Umberto Gaiani è titolare dell'impresa Gaiani che già è venuto una volta a parlare con noi di domotica adesso è tornato perché ci sono altre cose di cui di cui lui ci deve parlare molto importanti e la domotica ovviamente applicata a una casa di questo tipo direi che è praticamente obbligatoria Umberto innanzitutto grazie per essere ritornato qua con noi grazie a te buonasera a tutti allora l'altra volta ci hai portato delle apparecchiature hai spiegato a grandi linee che cos'è la domotica hai anche detto una cosa molto importante cioè che la domotica non costa di più di un impianto tradizionale sì la parità delle dotazioni non costa di più esatto allora qui abbiamo una lottizzazione con gli edifici in casa clima dove la domotica è condizione sine qua non perché abbiamo anche la ventilazione forzata abbiamo tutta una serie di accorgimenti per le quali senza domotica non si riesce allora cosa puoi aggiungere a quello alle cose importanti di questo tipo di impianto che non ci hai detto l'altra volta ma allora riguardo al discorso della casa clima quindi ventilazione meccanica c'è la possibilità bisogna anzi integrare l'impianto di ventilazione meccanica a un sistema di gestione di controllo in maniera da poter differenziare ambiente per ambiente l'umidità l'umidità relativa queste cose qui che sono cose che si fanno appunto con la domotica all'impianto di condizionamento possiamo interfacciare delle sonde nelle finestre e negli apparecchi in maniera che se io apro una finestra quell'unità in quella stanza si spenga se non sono presente nella stanza l'unità si abbassa e quindi non produce più lo stesso freddo di prima queste sono le cose più importanti che mi vengono in mente chiaramente con una gestione un controllo del riscaldamento globale fatto a zone a fasce orarie eccetera eccetera come deve essere ecco questa è la prima cosa che mi viene da dire ok dunque abbiamo detto che la domotica non costa di più di un impianto tradizionale perché anziché per la posa perché anziché infilare tutti quei bei filettini che hai infilato c'è solo un cavo che viene infilato che collega tutte le apparecchiature altra cosa che hai detto l'altra volta che mi sembra importante così ribadisci il concetto è che comunque già in ogni appartamento c'è un videocitofono c'è il termostato ambiente sì il concetto è questo ormai ormai in tutte le case nuove o comunque in fase di ristrutturazione si fa un po' di antifurto si fa il videocitofono si fa magari una telecamera c'è qualche termostato una serie di interruttori sono tutte cose che se fatte insieme coordinate appunto fatte diventare domotica rendono l'impianto completamente in sincronia comandabile con l'iPad come poi già abbiamo detto l'altra volta ecco niente di diverso fondamentalmente allora quindi ricapitolando adesso io vorrei che ci raggiungesse Silvia perché siamo in chiusura di questa parte di trasmissione hai capito qualcosa? qualcosa sì non tutto perché chiaramente abbiamo tagliato tre puntate fa e abbiamo ripreso queste tre puntate perché poi più parli più avresti voglia di spiegare come è la domotica secondo me quello che abbiamo fatto adesso è a dare abbiamo dato l'idea di quello che vuol dire un'alternativa al costruire che conosciamo senza naturalmente spaventare perché molto spesso il fatto di dire casa clima o costruire il legno fa un po' paura perché sono discorsi che non sono mai stati affrontati in maniera un po' più semplice giusto? esatto infatti se Umberto si sposta un attimo possiamo vedere qui che l'estetica delle abitazioni è esattamente uguale a delle abitazioni in muratura assolutamente ma ormai si fanno queste sono operazioni abbastanza normali cioè costruire fare la casa in legno casa clima tutto in legno esteriormente abbiamo detto prima che diciamo da noi Bologna provincia ci sono qua e là degli esperimenti beh sì ci sono degli esperimenti e che questo diciamo questa lottizzazione della Lodi Ghedini è insomma una cosa un po' importante perché sono noi abitazioni assolutamente quindi non è un esperimento isolato no 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 assolutamente ecco riguardo la domotica un'altra cosa che possiamo dire è che alla fine rende molto l'idea è che con un impianto domotico abbiamo la possibilità di eliminare un po' quel gap quel vincolo che abbiamo degli impianti normali che sono i tre interruttori nella scatolina il non poter emettere delle accensioni dove non arrivo con i fili noi adesso abbiamo appena finito una palazzina uffici tutta in vetro con le pareti divisorie tutte in vetro abbiamo montato gli interruttori senza fili tecnologia ZigB che è una tecnologia appunto che si interfaccia l'impianto domotico che appunto non ha bisogno di fili di conduttori si appiccica al vetro questo apparecchio si codifica niente corrugati nei muri niente tagliole niente assistenza muraria è solamente wireless è chiaro che non è un'operazione che si può fare in tutta la casa però nei punti dove voi designer poi lo sapete meglio che me volete mettere l'interruttore dove non si riesce a mettere la cosa che non si può fare è la nostra specialità fare impazzire gli artigiani si riesce a fare adesso si riesce a fare tranquillamente bene allora adesso io ti saluto Silvia abbiamo la possibilità come ha detto Umberto di mettere possiamo sbizzarrirci da apparecchio dove prima figurati ma infatti l'ha fatta apposta il povero Umberto l'ha fatta apposta e mi ha detto come fare per venire incontro a queste follie non ce la faccio più esatto allora chiudiamo qui questa parte di trasmissione ciao Umberto grazie ciao io vado dal personaggio di A Casa Di io ti lascio vado a cercare delle nuove realtà da poterti raccontare magari trovare spunto per dei nuovi progetti perfetto per i progetti e solo per i progetti ci vediamo consigli alla prossima settimana oggi vi porto in una casa in centro storico a Bologna che è la dimostrazione di quanto io di quello che io vi dico sempre durante la parte di progetti della trasmissione che una casa deve essere bella ma non deve essere datata questa casa che vi faccio vedere stasera è stata ristrutturata vent'anni fa però sembra ristrutturata l'altro giorno siamo a casa della dottoressa Irene Masedari che vi presento salve buonasera buonasera Irene la dottoressa ci ha permesso di entrare con le nostre telecamere in casa sua perché io ci tenevo particolarmente perché è una casa molto bella ripeto ristrutturata vent'anni fa che ha delle caratteristiche che comunque la rendono una casa senza età è sempre bellissima partiamo qui siamo nella zona ingresso andiamo verso la zona salotto che è unita a uno studio ed è divisa dalla zona notte e dalla zona cucina da questa parete blu fatta da un artigiano veneziano vent'anni fa ad encausto quindi con tutta una serie di tinte e la cera sopra è una parete che ha anche una forma molto particolare e che ricorda un po' tutte le tinte che noi vi abbiamo fatto vedere e spiegato quando parliamo dei nostri progetti dicendovi sempre che una parete tinta in modo particolare fa molto arredo giusto dottoressa infatti questa parete è stata veramente un lavoro impegnativo perché mi ricordo sono state dieci mani di colori diversi con dei rossi dei viola per arrivare a questo risultato finale sicuramente credo innovativo già per vent'anni fa soprattutto per vent'anni fa è bellissima adesso ancora bello io l'ho desiderata molto anche perché volevo una macchia di colore io adoro gli azzurri blu e quindi l'ho proprio voluta in maniera fortemente fortemente ecco un altro particolare di questa casa è il pavimento che è fatto con assi di larice inchiodate sui magatelli infatti se potete vedere qui ci sono le viti che inchiodano queste assi che sono delle assi intere quindi un montaggio di pavimento molto particolare e molto coraggioso vent'anni fa direi proprio sì una scelta anche questa molto ardita perché non si era abituati a usare il parquet in questa maniera soprattutto con questi listoni grandi poi lasciati naturali e così inchiodati poi negli anni sicuramente sono rumorosi quindi appena uno si muove in casa dà il segno della propria presenza però anche questo è piacevole se ci si abitua e poi è vissuto perché insomma sicuramente in vent'anni è cambiato si è modificato ma è anche il suo bello ma infatti il legno naturale ha assunto questa colorazione questa particolarità che lo rende pregiato il rumore che si fa quando si cammina lo screcchio lì è tipico di questo genere di pavimento quindi sì anche questo particolare io lo apprezzo qualcuno potrebbe non non apprezzarlo sì non desiderarlo guardi io lo apprezzo molto allora adesso da questa parete che dicevo praticamente divide le tre zone della casa zona giorno quindi salotto e studio zona notte e cucina ora passiamo verso la cucina e per andare in cucina dobbiamo aprire questa porta scorrevole ecco premetto che come mi ha detto la dottoressa tutto l'arredo è stato fatto su misura da sempre un artigiano veneziano quindi un falegname che apposta ha creato tutte le pareti divisorie i muri gli armadi le porte e quindi infatti si vede che è tutto studiato insieme adesso poi andremo a vedere alcuni particolari quindi questa porta scorrevole con una parte fissa una parte scorrevole divide la cucina dalla zona giorno ma una volta aperto la porta questo muro che continua in cucina dà continuità all'ambiente per cui può essere un loft tutto aperto venga dottoressa altrimenti senza microfono non la sentono può essere un loft tutto aperto oppure dare una diciamo movimento infatti quello che diciamo questo era un appartamento di un impianto molto tradizionale molto banale quindi il classico ingresso le porte che davano nelle diverse stanze poi vedremo anche il bagno che quindi era un bagno molto molto banale e quello che abbiamo cercato di fare è rendere un appartamento con una sua anima e con una sua personalità e quindi muoverlo e renderlo un po' speciale bene allora adesso siccome la dottoressa è un amante di design e per lavoro ha a che fare con il design vi facciamo vedere il tavolo da pranzo e le sedie allora anche il tavolo ha una piccola storia perché è il classico tavolo della Tecno si riconoscono le zampe e veniva dalla casa precedente ci dispiaceva rinunciarci e quindi abbiamo rifatto fare un piano di cristallo apposta sagomandolo sulla forma del muro e quindi per poterlo adattare e farlo stare anche in questo ambiente io ho scelto poi queste sedie della cartel che amo moltissimo scegliendo i colori così sempre per dare un po' di colore alla casa ecco invece il pavimento in questo caso è in pietra piasantina bucciardata quindi questa è pietra naturale non è il finto perché dottoressa lei sa che io odio le cose finte anche io anche lei quindi è pietra piasantina tagliata lastra e bucciardata e che si sposa molto bene con vedete come colori con il pavimento di legno altra cosa meravigliosa di design direi anche stupenda oltre che meravigliosa è l'illuminazione di questa cucina anche questo fortemente voluto da me normalmente lo si vede ambientato in uffici però mi piaceva l'idea di poterlo avere come come dire come cielo in questa cucina ed è molto molto divertente bello il gioco delle diverse altezze delle luci che vediamo lì quindi abbiamo queste due luci che scendono mentre tutte le altre sono o più lungo o più corte comunque rimangono attaccate a soffitto ecco adesso io mi avvicino a un inquietante personaggio che prima non ho presentato scusa Giorgio se ti ho chiamato inquietante allora Giorgio uno dei due figli della dottoressa Masedari infatti la dottoressa qui abita con i due figli fammi vedere cosa stai leggendo il giovane Holden quindi è anche un ragazzo di ottime letture poi mi racconti che fine fanno le anatre d'accordo? appena finisco il libro volentieri allora adesso lasciamo no prima di lasciare la zona giorno mi sono ricordata di una cosa un particolare che qua nello studio sempre parlando di quel meraviglioso artigiano veneto che ha progettato ha realizzato tutto l'aredo della casa vi vorrei fare notare il sistema di sostegno di queste mensole sono dei cavetti che sostengono le mensole ma ai quali dentro dentro i quali sono infilate queste bocce di vetro che fanno proprio vetro di murano vetro di murano sempre in colore blu come piace alla dottoressa esattamente e vedete la bellezza di questo che spesso viene usato semplicemente come tirante quindi una cosa minimalista invece in questo modo ne abbiamo fatto una scultura quasi un decoro un decoro quindi su questo particolare ve lo volevo fare notare perché effettivamente può essere spunto per chi deve fare una libreria poi ci sono i pomelli di vetro stesso concetto anche i pomelli di vetro sempre di murano blu che fanno così richiamano il resto ecco a tutto si sposa molto bene il colore delle pareti questo giallo uovo molto delicato che fa risaltare il blu e fa risaltare anche questo questo legno decapato che ha questo colore molto particolare e che ripeto è vent'anni che è redata questa casa quindi la bellezza di questi mobili si può ancora apprezzare nonostante gli anni esatto adesso passiamo nella zona notte per andare nella zona notte abbiamo alle nostre spalle sempre quel muro di cui vi parlavo prima che ha questa porta che in realtà non è una porta perché non ha una serratura è un'anta della scarpiera che può essere aperta e trasformata in porta per dare privacy alla zona notte e anche questo è bellissimo sì anche questo un particolare un'attenzione alla funzionalità ma anche all'estetica ecco vorrei fare notare questa stondatura che poi aprendo se riusciamo a riprenderla va a chiudere io adesso sono nel corridoio della zona notte e la stondatura non fa vedere assolutamente nulla siamo nella camera da letto padronale e vorrei che la dottoressa Irene Masedari ci spiegasse perché c'è questa appendice tonda questo tondo allora anche qui c'è un segreto lo si vedrà quando poi si entra nel bagno che è il bagno della camera appunto padronale che era un bagno assolutamente banale un piccolo corridoio lungo e stretto a cui noi abbiamo dato così un po' di movimento un po' di spazio grazie all'altro lato del muro tondo che abbiamo visto in cucina e poi abbiamo ricavato il box doccia inventandocelo spanciando nella camera da letto e creando questo gioco di nuovo di forme curve e sempre rifinendo la parete ad incausto questa volta con questo colore giallo chiaro anche in camera da letto abbiamo le armadiature dello stesso colore assolutamente lo stesso tipo di legno di finitura e quindi lo stesso modello che si ripete e lo stesso screcchiolio di pavimento assolutamente che mi fa sentire la notte quando i figli tornano a casa e io li sento lei può controllare e dire Giorgio a che ora sei tornato che lo so però anche loro sentono me e quindi è a doppia a doppia mandata è meglio girare con le pantofole ora vi apro la porta del bagno che è un piccolo capolavoro anzi direi un grande capolavoro perché in questo spazio così piccolo siete riusciti a fare a fare un capolavoro abbiamo innanzitutto il mosaico della bisazza in questo bellissimo colore blu è la serie gemme questa perché ha dentro le pagliose d'oro molto bello e poi il retro della parete blu che abbiamo visto in cucina invece è stato trattato ad incausto giallo e il giallo riprende i riflessi dorati delle gemme assolutamente sì diciamo che il giallo di questo muro è l'unico elemento che abbiamo dovuto ritoccare nel corso degli anni perché è un attimo diverso rispetto a quello che possiamo vedere nel retro della doccia ma aveva bisogno di manutenzione l'unica cosa sì perché l'umidità del bagno purtroppo aveva creato delle crepe e quindi ho dovuto ridare il giallo non c'era lo stesso artigiano e quindi è venuto un po' diverso poi un'altra cosa bellissima del bagno è lo specchio che lei ha preso in Messico un ricordo di viaggio in Brasile quindi un ricordo di viaggio era una normale cornice che mi piaceva moltissimo e quindi ho pensato di usarla come per chiarare lo specchio del mio bagno un'altra cosa molto all'avanguardia se ripetiamo pensiamo che questa casa è stata fatta vent'anni fa che è nel bagno è il fatto che è stato ricavato il lavandino all'interno di una struttura e rivestito con il mosaico questo mosaico della bisazza con un concetto un po' di un vecchio come fosse un vecchio frantoio quindi stato fatto in muratura e poi rivestito con le stesse ed è ancora perfetto assolutamente quindi una casa molto elegante che continuo a ripetere sembra fatta oggi fatta vent'anni fa una casa che non ha tempo che fra vent'anni sarà ancora bellissima elegante come ora fatta vent'anni fa con dei materiali molto caldi ma anche di buona qualità perché il materiale di buona qualità poi nella prova del tempo dell'uso fa risparmiare soldi perché ci diceva la dottoressa che l'unico ripristino che hanno fatto nella casa in vent'anni è la parete gialla del bagno quindi finiamo qua anzi no finiamo qua diciamo la visita della casa perché adesso io voglio andare da Giorgio perché devo capire perché ha quel sax di fianco sul divano sono tornata in salotto raggiunto Giorgio che mi ha spiegato che lui suona il sax e gli ho fatto una richiesta siccome questa casa è bellissima è piena di colore di gioia di vivere perché la dottoressa Irene Masedare e i suoi figli sono delle persone piene di vita e questa casa mi ha fatto pensare che va oltre l'arcobaleno e quindi over the rainbow e con questo chiudiamo questa puntata ci vediamo la prossima settimana io abito finisce qua ringrazio la mia ospite grazie a voi Giorgio sei meraviglioso grazie mille è un piacere Delisa Merli vi saluta alla prossima settimana grazie a tutti Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!